Ciao a tutti amici di Roma U, eccomi qua con un nuovo unboxing ed oggi andiamo ad unboxare il secondo box di Lady Oscar per la prima volta in Blu-ray che si conclude con questa seconda uscita, quindi abbiamo tutta la serie già disponibile in Blu-ray. Vi ricordo che ci sarà a disposizione, ma credo sia già esaurita, anche un'edizione limitata in esclusiva per il sito di Yamato Shop. Questa è l'edizione da negozio, sempre produzione ovviamente Yamato, i box sono gli stessi, ma lì ci sono anche dei vinili in regalo, mi sembra anche un libro o qualcosa, insomma in regalo, insomma all'interno della confezione che comunque lo pagate molto di più. Questo invece è il cofanetto normale che viene distribuito da Eagle Picture in tutti i negozi. Devo dire che a me piace molto, come vi ho detto anche nel video precedente dedicato a Lady Oscar come lo hanno restaurato, devo dire ottimo veramente il video di questa edizione, ovviamente audio 2.0 per quanto riguarda Dolby DJ, per quanto riguarda sia l'italiano che il giapponese, ovviamente doppiaggio originale per quanto riguarda l'italiano e poi c'è anche la sigla originale dei cavarieri del re. All'interno del box, che vi ricordo è tiratura limitata ma non numerata, vedete box 2 di 2, abbiamo come sempre l'amarai di spessore, quella che noi chiamiamo amarai cicciottosa. Niente male per quanto riguarda le immagini scelte, ovviamente sempre come da tradizione, comunque come quasi sempre per tradizione chiamato, abbiamo la possibilità di scegliere quale copertina ci piace di più e poi ovviamente all'interno troviamo i tre Blu-ray, ripeto con una qualità video secondo me eccezionale, anche se magari c'è questo utilizzo di filtri che va a levare un po' di quella che è la grana dell'epoca, però comunque ai giapponesi piace così o comunque a chi fa cura questi restauri piace così e quindi ce li troviamo così ma non l'avete mai visto in questa maniera, insomma potete, non so se lo stanno dando ancora su Italia 1, potete darvi un'idea della qualità su Italia 1 o dovrebbe essere presente anche su Prime e poi scegliere se acquistarlo o meno attenzione perché secondo me sono boxe che andranno presto fuori catalogo. Tra l'altro come potete vedere, come per il precedente booklet, non è un solo un booklet con le sinossi e qualche schizzo preparatore e quant'altro, bozzetti e quant'altro, ma abbiamo anche parecchie curiosità sull'opera e c'è veramente tantissimo materiale, quindi sono veramente dei booklet ben curati, peccato che Yamato non ha fatto la stessa cosa per esempio per i Cavalieri dello Zodiaco o per tutte le altre uscite perché veramente devo dire che per Lady Oscar hanno fatto un ottimo ottimo lavoro e poi qui abbiamo dei disegni preparatori, veramente tanto materiale comunque esclusivo che comunque fa la sua porca figura all'interno di queste edizioni visto che andiamo a cercare un artbook di Lady Oscar e poi ci facciamo due risate sul prezzo e devo dire veramente che sono stra-contento di aver inserito in collezione anche tutta la serie di Lady Oscar. Questo box vi ricordo che lo trovate disponibile un po' ovunque, io vi lascio il link ad Amazon come sempre se vi è piaciuto questo video mettete un bel like, se vi fa piacere iscrivetevi al canale e attivate la campanella per stare a giornale sempre sull'uscita dei prossimi unboxing e noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao a tutti!